La parola di Dio di questa ventisesima domenica anno C, con la parabola del ricco Epolone e un po' con tutte le letture, ci sprona a riflettere su una domanda importante, o potremmo dire su un dilemma, su un bivio cui ogni uomo è sempre chiamato. Come vivere o perché vivere? Se facciamo caso, oggi più che mai, l'uomo è molto preoccupato a come vive la sua vita, al benessere, ai suoi progetti, alla sua famiglia, al lavoro, ai figli, sono tutte cose importanti, chiaramente non stiamo dicendo che non sono importanti, solo che tutto è focalizzato sul come viviamo la nostra vita. Anche un po' tutta la questione politica e morale sull'eutonesia in fondo nient'altro non fa che rispondere a questa vita come viviamo. Il come vivere questa vita diventa il principio assoluto. Invece il Vangelo, con la vicenda di questo ricco pulone e poi del fatto che sia il ricco che il povero Lazaro si trovano dell'aldilà, ci sprona a riflettere sul perché. Perché viviamo? Qual è il fine della nostra vita? Qual è l'obiettivo? C'è un orizzonte che non ci viene mai tolto? C'è un orizzonte eterno? Perché è il perché, scusate il gioco di parole, che dà luce, dà bellezza al come. È il perché che dà le coordinate del come. Ma se perdiamo il perché, vivremo il come, come in continua ansia, in continuo stress, perché ci rendiamo conto che per quando uno si impegna, il suo come gli spugge di mano, il suo come non risponde alle domande del cuore. Dinanzi a questo come siamo sempre insaziabili. Perché? Perché il nostro cuore è fatto per il perché e non il come. La parola di Dio in questa domenica illumina il nostro cuore perché il perché sia l'orientamento più grandioso del come vivere la nostra vita. Buonamissima.